Ciao a tutti, oggi prepareremo la salsa piccante per nachos. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono peperone rosso, peperoncini, sale, polpa di pomodoro, olio evo, pepe nero, cipolla e paprika forte. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il peperoncino, il peperone e la cipolla. Ed azionare il bimbi per sette secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere la paprika forte, il pepe nero, il sale, il pomodoro e l'olio. Ed azionare il bimbi per 20 minuti, 100 gradi, velocità 2. La salsa è pronta, lasciare raffreddare completamente prima di servire. Salsa piccante per nachos. Si conserva in frigo chiusa in barattoli di vetro per 2-3 giorni. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!